Musica Oggi giornata mondiale della sindrome di Down, le persone con disabilità sono una risorsa di valore per la comunità. La testimonianza di Egle Folgori, presidente dell'Anfas di Chiavari. La fondazione anti-usura nel corso del 2017 ha dato aiuto anche per misure previste dalla legge, come la rottamazione delle cartelle esattoriali e l'accesso ai contributi IMSS per gli invalidi. Frana in Val Cichero, Mezzanego e San Colombano-Certenoli in attesa del via libera da città metropolitana e regione. I costi del progetto sono lievitati sugli 80-100 mila euro. La comunione sacramentale al centro dell'udienza del Papa. Tracciando un parallelo con l'inizio della primavera, Francesco ha sottolineato che la vita cristiana, per fiorire, deve avere le radici in Gesù. Messa di Pasqua oggi per le Forze Armate del Tiguglio. La nostra presenza è sempre più rassicurante per la gente, ha detto il comandante della Scuola Telecomunicazioni di Caperara. A Sestri Levante, storie e tradizioni dei locali riconosciute con la consegna di pergamene. L'iniziativa si allarga, in programma una raccolta di foto di tutti i luoghi storici del Tiguglio. Tutto pronto a Rapallo per la terza edizione della Reapallus Race. La gara d'ostacoli si terrà il 7 e l'8 aprile. L'iniziativa ormai è un punto di riferimento nel panorama nazionale e non solo. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio Oggi. I ragazzi con disabilità sono soprattutto persone e danno valore alla vita di chi li accoglie. Oggi abbiamo deciso di aprire parlando della giornata mondiale della sindrome di Down. A Chiavari abbiamo raccolto la testimonianza di Egle Folgoli, presidente dell'Anfas Tiguglio Est. Sentiamo. Qual è il valore di avere al proprio fianco durante la vita un ragazzino Down? Un enorme valore. Mi ha cambiato la vita, mi hanno insegnato molte cose, mi hanno appoggiato in momenti difficili. Sono persone, persone veramente in gamba. Ci puoi fare qualche esempio? Lui per esempio mi ha tirato su in una mattina in cui io piangevo disperata sulle scale per l'alluvione, è venuto e mi ha abbracciato, mi ha dato quel conforto che non riusciva ad attrarre da altri. Lui mi ha insegnato il valore delle poesie. Da quando era giovane faceva molte poesie. Che cosa dire allora a questa cultura dello scarto oggi così presente nella società di oggi? Non bisogna scartare nulla. Da ognuno di noi può nascere qualcosa, possiamo ricevere qualcosa. Dobbiamo crederci perché sennò saremo presuntuosi, convinti di essere migliori di altri. Che consiglio dare a una famiglia spaventata magari da una diagnosi? Di cercare di vivere quello di cui loro hanno bisogno, non quello che noi vorremmo. Perché solo così riusciamo a farli crescere felici. D'altra parte con qualsiasi altro figlio è così. Accompagniamoli in una vita che speriamo sia la migliore possibile per loro, lasciandoli autodeterminare. Una famiglia può dire ma cosa sarà di loro dopo? Anche questo può essere una problematica da affrontare. Cosa dire loro? Certamente. Però cosa sarà di qualsiasi altro nostro figlio? Voglio dire è così e la vita è questa. Noi dobbiamo dare quello che possiamo in quel momento ma avendo fiducia nelle loro possibilità e lasciandoli liberi di sbagliare anche. Che cosa hai fatto di lavoro? Io ho portato il cameriere qui a Greta Cervo di Lavagna. E ora ti trovi qui nella sede dell'Anfas. Cosa fai? Come ti trovi? Tipo stamattina facevamo ciclomaticità. Mi dicono che scrivi poesie. Che cosa scrivi? La mafizia, l'affetti e la primavera mi ricordo. La primavera e anche l'amore. E oggi si è celebrato anche la ventitresima giornata in ricordo delle vittime di mafia. La criminalità organizzata, ha detto la vicepresidente della regione Sonia Viale, è un fenomeno purtroppo presente anche in Liguria, dove si manifesta forse in modo meno evidente, ma con infiltrazioni in vari settori della società. Nel tentativo ha proseguito di condizionare non solo i comportamenti di cittadini e imprenditori, ma anche l'operato delle amministrazioni locali. Il 29 marzo a Genova si riunirà il Tavolo della Legalità. In questa occasione sarà presentato il decimo rapporto sulla sicurezza urbana in Liguria. Torniamo a parlare dello sportello di chiaveri della Fondazione Antiusura, che di recente ha presentato i dati del 2017. I casi più ricorrenti di richiesta d'aiuto riguardano il mancato pagamento di affitti e spese condominali, l'impossibilità di sostenere le spese connesse al cambio di alloggio, ritardi nel pagamento delle utenze a causa di precarietà, redditi di lavori insufficienti o bilanci familiari compromessi da divorzi, carenze gestionali, malattie e gioco d'azzardo. L'educazione passa attraverso una corretta gestione delle risorse finanziarie e l'aiuto ad accedere a misure di sostegno fornite dallo Stato. Le interviste. Si chiama Fondazione Antiusura, ma per ricorrere alla stessa, per un aiuto o ad un ascolto, non è necessario essere preda di usurai. La funzione principale è quella di prevenire situazioni di pericolo e formare ad una educazione finanziaria corretta. Nell'ultimo anno di attività i volontari si sono adoperati, anche per aiutare le persone in difficoltà economica, a beneficiare di strumenti messi loro a disposizione dalla legge. La rotamazione delle cartelle esattoriali, che siamo riusciti ad anticipare le somme che erano necessarie per ottenere un forte sconto dall'Agenzia delle Entrate, oppure ci sono persone in genere invalidi che magari non hanno i contributi sufficienti per ottenere dall'Inps un certo riconoscimento di una pensione maggiore e versando però i contributi che mancano, documentando tutto questo, noi riusciamo a fargli ottenere quell'aumento di pensione che può essere determinante per avere una situazione tranquilla. Le modalità di concessione dell'aiuto sono commisurate all'entità del debito da coprire e sono erogate solo se l'interlocutore darà assicurazioni di restituzione del prestito. Piccole cose, poi la fondazione direttamente che fa un prestito che rimborsa il tasso zero. Principalmente poi ci sono banche convenzionate che concedono finanziamenti con la nostra garanzia totale della fondazione. Colloquio con i volontari che mettono il soggetto di fronte alla situazione concreta. Mettiamo davanti la richiesta delle spese che hanno fisse. Ci capita sovente di giungere alla fine che, messe l'elencato, le spese, le rate, gli affitti, le bollette, eccetera, noi diciamo adesso non hai, adesso una volta che hai speso tutti questi soldi qua non ti resta più niente, non riesci a comprare da mangiare. Come gruppo di volontari avete bisogno di un aiuto ulteriore? Ci piacerebbe avere disponibile una scolta, una consulenza legale gratuita per quanto riguarda noi, per sapere come ci muoviamo, perché non abbiamo i mezzi diversamente per sostenere. Poi domani ci possono fare dei provvedimenti dirgliati, ovviamente il legale va pagato. Cronaca, un ragazzo di 18 anni è stato ricoverato oggi in rianimazione all'ospedale San Martino di Genova a causa di una sepsi meningococcica. Il giovane è giunto al pronto soccorso intorno alle 13 con febbre alta, difficoltà respiratorie e petecchie sul corpo. Il ragazzo sarà sottoposto a terapia. È stata avviata anche la profilassia antibiotica per i parenti, gli amici stretti del giovane, ma anche degli operatori medici che sono entrati in contatto con lui. È stato trovato questa notte intorno alle 3.30 il trentenne che aveva fatto perdere le sue tracce ieri sera nella zona di Prelia a Chiavari. L'uomo era uscito con una canoe, uno zaino, che è stato poi ritrovato sulla spiaggia con l'auto posteggiata poco distante, ma di lui nessun'altra traccia. Le ricerche dei vigili del fuoco sono iniziate intorno alle 21.40 con una squadra a terra, una barca, con i sommozzatori ed un elicottero che sorvolava la zona aponente della città. Impegnata anche la motovedetta della guardia costiera e alcuni agenti di polizia e di carabinieri. Finalmente il trentenne è stato individuato sulla scogliera del gruppo del sale ed è stato subito accompagnato al pronto soccorso di Lavagna. È stato trovato infreddolito e impossibilitato a camminare in seguito ai tagli riportati ai piedi, infatti non indossava le calzature. Torniamo a parlare della frana sulla provinciale 42 del passo di Romaggi, nella località Maggioli, siamo nella Val Cichero. Mezzanego e San Colombano-Certeno li sono in attesa del Via Libera da parte di città metropolitana e di regione per poter iniziare i lavori. Sentiamo il sindaco di Mezzanego. Il progetto che è stato redatto per la messa in sicurezza di questa zona della Val Cichero in che cosa consiste? Cosa prevede? Praticamente sulla Scarpata aveva fatto un disgaggio dei massi ancora pericolanti ed installato una rete paramassi. Il progetto è condiviso con la città metropolitana che è lente proprietario della strada. Abbiamo inviato ieri tutto in regione per il finanziamento. Inizialmente si parlava di una cifra sui 30-40 mila euro, adesso invece? Siamo purtroppo saliti un po', saremo intorno ai 80-90 mila euro. Forse si può avere anche un ribasso con l'impegno di tutti naturalmente? Ma sì, perché se c'è anche l'impegno della città metropolitana come c'è di dare una mano con i loro uomini, con i loro mezzi, tutto quanto, con il ribasso d'azzo, io credo che presumibilmente con 80 mila euro si riesce a fare tutto. In questo momento è tutto fermo, una decina di giorni che è caduta la frana, è un disagio per la popolazione che vive in quest'area? Mi rendo conto che quando ci sono le strade chiute come era successo a Carasco è un grosso problema per tutti, per chi va a lavorare, chi deve andare a scuola e anche per le attività presenti sul territorio. Noi ci siamo attivati subito, anche con il mal tempo sono stati fatti sopra luoghi da parte degli ingegneri, dei tecnici della città metropolitana, di quelli del comune e anche col comune di San Colombano cerchiamo di dare una soluzione concreta a questo problema. Che area è interessata? Si tratta di una zona a monte, della scarpata a monte della strada, è un tratto abbastanza circoscritto ma c'è parecchio materiale. Il problema è lì, che è proprio una scarpata naturale che partiva dal fiume, arrivava sul crinale della collina ed è stata tagliata dalla strada e a monte della strada le piogge anche degli ultimi anni probabilmente hanno peggiorato una situazione che era già di sua natura poco positiva. È iniziato questa mattina a Recco l'intervento di potatura degli alberi in alcune zone della città. I lavori affidati a una ditta esterna dureranno una decina di giorni per una spesa di 14 mila euro. Inoltre sono partiti in questi giorni anche i lavori di asfaltatura in alcune strade di Recco. Le zone interessate, spiega l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Rotunno, sono via Marconi, Piazzale Europa e via Vittorio Veneto nella parte terminale dopo l'incrocio con via Roma. L'importo complessivo è di 63 mila euro. Continua a fare freddo in questi giorni sulla Liguria. Le temperature minime sono calate nelle zone interne e in quota rispetto ai valori di ieri. La neve intanto è caduta a copiosa sulle vette della Val d'Aveto, meno 7 i gradi nel tardo pomeriggio di oggi al Prato della Cipolla. Gli impianti riapriranno venerdì 23 marzo e resteranno attivi per tutto il fine settimana. Sulla costa temperature intorno ai 10 gradi, ma sensazione di freddo accentuata dal vento forte, con raffiche di burrasca allo sbocco delle principali valle tra Capomele e il Tiguglio. Siamo all'informazione religiosa, parliamo dell'udienza generale di questa mattina. Il Papa è entrato nel cuore delle riflessioni sulla Messa e ha parlato della comunione sacramentale. Il prodigio della comunione ha spiegato e proprio che diventiamo ciò che riceviamo. La sintesi nel servizio. La vita cristiana è una vita che deve fiorire nelle opere di carità, nel fare il bene, ma se tu non hai delle radici, non potrai fiorire. E le radici? La radice chi è? Gesù! Con un fuori programma all'inizio dell'udienza generale, Papa Francesco ha ricordato l'inizio della primavera tracciando un parallelo tra gli alberi che fioriscono e la vita cristiana. Nella catechesi il Papa si è soffermato sulla comunione sacramentale. Il prodigio della comunione ha detto è proprio che diventiamo ciò che riceviamo ed è proprio l'Eucaristia che ci fa forti per dare frutti, fiori di buone opere per vivere come cristiani. Francesco ha ricordato che se siamo noi a muoverci in processione per fare la comunione, in realtà è Cristo che ci viene incontro per assimilarci a sé. Quindi ha messo in evidenza alcuni elementi essenziali del ricevere l'Eucaristia. Dopo la comunione, a custodire in cuore il dono ricevuto, ci aiuta il silenzio, la preghiera silenziosa. Allungare un po' quel momento di silenzio parlando con Gesù nel cuore, ha detto il Papa, ci aiuta tanto come pure cantare un salmo o un inno che crea intimità con il Signore. Il Pontefice ha quindi sottolineato il valore salvifico del sangue di Cristo, sparso per la remissione dei peccati. Tutti siamo stati perdonati nel battesimo, ha detto, e tutti noi siamo perdonati quando ci accostiamo al sacramento della penitenza. Accostiamoci all'Eucaristia, ricevere Gesù, che ci trasforma in Lui, ci fa più forti, è tanto buono e tanto grande il Signore. Al termine dell'udienza generale, Francesco ha annunciato il prossimo viaggio in Irlanda, il 25 e 26 agosto, per partecipare all'incontro mondiale delle famiglie. E proprio questa mattina, il Papa ha accettato la rinuncia di Monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segretaria per la Comunicazione, che ora sarà guidata da Monsignor Adrian Ruiz. Nella lettera, il Papa ha espresso rispetto per la decisione di Monsignor Viganò, accolta, non senza fatica. Naturalmente alla base c'è un comportamento ritenuto scorretto da Monsignor Viganò sulla divulgazione di una parte della lettera scritta di recente dal Papa Emerito Benedetto XVI. Il grande impegno, profuso in questi anni nel nuovo di Castero, con lo stile di disponibile confronto e docilità che ha saputo mostrare tra i collaboratori e con gli organismi nella curia romana, ha spiegato Papa Francesco, ha reso evidente come la riforma della Chiesa non sia innanzitutto un problema di organigrammi, quanto piuttosto l'acquisizione di uno spirito di servizio. Vediamo ora in Diocesi. Questa mattina le forze armate del territorio si sono ritrovate in Cattedrale a Chiavari per la Messa di Pasqua. La celebrazione è stata presieduta dal Vescovo. Sentiamo le sue parole. «Vivere secondo il Vangelo ci rende liberi», lo ha spiegato il Vescovo nella Messa per le Forze Armate. In Cattedrale a Chiavari, Monsignor Tanasini ha esortato a cogliere l'invito della Pasqua. Seguire Cristo non vuol dire essere schiavi, ma piuttosto liberi dei pregiudizi, dal proprio egoismo e dalle proprie convinzioni sociali. La parola di Dio, ha proseguito, spinge a cercare una libertà più profonda, interiore, è parola di verità. Di qui l'esortazione a seguirla, a leggerla in questi giorni di Vigilia della Pasqua. Il Vescovo ha ricordato quanti si sono affidati alla fede nei momenti più difficili, vittime della tirannia degli uomini, scelta che li ha resi liberi, anziché schiavi. Proprio per il fatto che avevano questo supremo riferimento a Dio, quando si è chiesto a molti come hanno potuto resistere nei campi di concentramento, hanno risposto per la nostra fede. La nostra fede in Dio ci ha messo in condizione di poter guardare negli occhi i nostri aguzzini. E guardandoli negli occhi, liberi interiormente, non succubi, abbiamo potuto vedere il loro capo piegarsi. piegato da una forza irresistibile, scopriamo in Gesù morto e risorto il principio della vera libertà. Come avete visto dalle immagini, in chiesa erano presenti i vari corpi delle forze dell'ordine e del territorio, ma qual è il significato di questo appuntamento del precetto pasquale? Abbiamo sentito il comandante della scuola telecomunicazioni delle forze armate di Caperana. Qual è il valore per le forze armate del Tiguglio di ritrovarsi per il precetto pasquale in Cattedrale a Chiavari? È un momento di ritrovo per il personale militare del Tiguglio, tutto, che viene sempre interpretato con grande entusiasmo e voglia di partecipare. Ci sono tutte le rappresentanze militari e delle associazioni combattentistiche di tutto il Tiguglio. È un momento, questo, con le altre occasioni, tipo quelle precedenti del 4 novembre e della ricorrenza dei defunti in cui praticamente noi ci ritroviamo tutti insieme in un momento profondamente sentito come quello della Pasqua ma anche per dare un segno anche della nostra presenza nell'ambito sociale della cittadinanza della città di Chiavari ma anche per tutto il Tiguglio. A proposito di presenza, oggi le forze armate sono un presidio importante per vari motivi, messi in sicurezza, terrorismo. Come è cambiato anche il senso della popolazione verso le forze armate? La percezione delle forze armate nella società è cambiata ed è migliorata tantissimo. Diciamo che storicamente ci sono stati tutta una serie di eventi da quelli diciamo più legati ad attività di protezione civile poi via via purtroppo le necessità di difesa dal terrorismo e dalla criminalità comune hanno imposto un impiego anche come dire molteplice e variegato delle forze armate. Questo però ha creato una maggiore unione tra quello che era un mondo che veniva visto in certo senso quasi staccato con la società civile e con la cittadinanza. Quindi questa è una cosa che noi sentiamo parecchio e diciamo avere questa partecipazione con partecipazione della cittadinanza con il nostro operare quotidiano ci fa sentire utili e ci fa sentire apprezzati. Il piccolo coro San Girolamo Emiliani di Rapallo ha indetto il concorso Una canzone per noi l'obiettivo è trovare un inno che rappresenti l'attività del sodalizio l'iniziativa è rivolta a tutti gli autori di canzoni per bambini e a chiunque abbia la volontà di cimentarsi nella scrittura di un brano la partecipazione è libera e gratuita occorre preparare un provino del brano inedito e inviarlo insieme al materiale richiesto dal regolamento entro il 15 giugno all'indirizzo mail bandoautori chiocciolapiccolocoroemiliani.it si può anche visitare il sito www.piccolocoroemiliani.it siamo così alla cultura questa mattina a Sesti Rilevante sono state consegnate le pergamene alle botteghe storiche e ai locali della tradizione del territorio cittadino ma non finisce qui Comune e Ministero dei Beni Culturali per la Liguria infatti intendono valorizzare tutte le attività che hanno contribuito e tuttora contribuiscono all'unicità della Bimare siamo andati a vedere è un lavoro che il Comune sta portando avanti da un paio d'anni insieme all'associazione di categoria ASCOME Confesercenti al Ministero dei Beni Culturali e alla Camera di Commercio questa è la seconda consegna oggi abbiamo consegnato un nuovo attestato di bottega storica e sette attestati di locali della tradizione a esercizi che rappresentano un po' la storia l'identità della nostra città l'obiettivo è proprio quello di valorizzare anche turisticamente un percorso legato alla nostra identità un percorso commerciale legato alle nostre radici facendone un veicolo di promozione turistica siamo arrivati oggi ad avere 12 botteghe storiche e 11 locali della tradizione e abbiamo già nuove candidature pensiamo davvero sia un modo per promuovere lo sviluppo e l'economia del nostro territorio il Ministero collabora insieme alla Regione e ai Comuni nel promuovere questi piccoli locali che sono storici e della tradizione quali sono i progetti futuri che ha in mente il Ministero? intanto mi piace ricordare che sia a Genova che a Sestri Levante il percorso è più che iniziato e abbiamo raggiunto un obiettivo importante però avremo intenzione anche di sollecitare e già lo stiamo facendo i Comuni del Tiguglio perché questa esperienza si espanda a tutta la Regione il Ministero sta lavorando anche per la pubblicazione e la redazione di un libro che raccolga tutte queste realtà sì è vero vogliamo che rimanga traccia anche e stiamo lavorando ad una pubblicazione in cui saranno illustrati questi locali che tengono viva la tradizione in Liguria il bando di partecipazione al premio Andersen è stato prorogato di alcuni giorni sino al 13 di aprile al concorso letterario di Sesti Levante infatti sono giunte numerose richieste l'intesa che il premio ha raggiunto con le scuole attraverso il Ministero dell'Istruzione e l'apertura alle favole disegnate sembra aver destato ulteriore interesse tra gli autori e proprio dalle classi della primaria e delle medie inferiori sono arrivate le richieste di prorogare i termini che inizialmente erano previste per il 23 di marzo e siamo ora allo sport sport e divertimento parliamo infatti della terza edizione della Reapalus Race di Rapallo che è pronta a partire quest'anno la competizione si svolgerà il 7 e l'8 di aprile sentiamo le novità ha superato quota 320 il numero di iscritti all'edizione 2018 della Reapalus la corsa ad ostacoli che si svolgerà a Rapallo sabato 7 e domenica 8 aprile tra i tanti cantieri che affollano il centro storico gli atleti dovranno vedersela con un nuovo percorso dopo aver affrontato i primi 10 ostacoli sul lungomare i corridori saliranno al santuario di Montallegro imboccando via Domminzoni e scenderanno poi per la ripida scalinata adiacente alla funivia confluendo di nuovo verso il lungomare dove affronteranno gli ultimi 10 ostacoli passando per Piazza del Pozzo e Piazzetta da Vico più partecipanti e quindi più categorie in gara nella giornata di domenica saranno infatti impegnati atleti iscritti in modalità individuale o a squadre e per la prima volta un'intera categoria aggiuntiva è dedicata ai soli corridori pro riservata su invito a 50 atleti selezionati in base ai meriti sportivi abbiamo cercato di rendere l'evento ancora più spettacolare cercando di far confluire tutti gli atleti più forti in un'unica categoria che si chiamerà pro è la categoria che parte alle 11 di domenica e facendo questa selezione di atleti praticamente abbiamo fatto una candidatura poi in base ai risultati sportivi abbiamo selezionato 50 atleti questi partiranno tutti insieme alle 11 e ritrovandosi tutti più forti nella stessa batteria si potrà come dire apprezzare ancora di più la bagarre lo spettacolo sul finale ci aspettiamo davvero scintille ad affiancare questi guerrieri dell'ostacolo la ben più rilassata categoria family dedicata agli amatori con un percorso composto da 10 ostacoli tutti facoltativi e da una scalata al monte di estensione ridotta per i veri duri le danze si apriranno già nella giornata di sabato con la Rea Paulus Warrior una prova di forza e velocità di eliminazione diretta su un breve percorso di soli ostacoli a corredo dell'intera manifestazione atleti e spettatori saranno accolti nel Rea Paulus Village area allestita con stand promozionali gastronomici di intrattenimento e tanta musica ad accompagnare la gara e quest'anno l'evento potrà contare su ospiti d'eccezione l'inizio della corsa domenica sarà infatti sancito da un'esibizione del gruppo musici e sbandieratori dei sestieri di Lavagna questa mattina l'istituto Caboto di Chiavari si è svolta la premiazione degli studenti vincitori di Guida Sicura dal titolo Fermati un attimo pillole di mobilità consapevole il corso svolto dagli esperti dell'autoscuola Tiguglio di Chiavari l'obiettivo del corso è di fornire un approccio pratico e realistico agli studenti grazie all'utilizzo degli occhiali virtual reality che simulano una situazione di guida sotto l'effetto di alcol o droga ora tutti gli appuntamenti per la giornata di domani con Maria Butcovici e poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti appuntamenti in agenda per giovedì 22 marzo dalle 9 alle 12 corso di recupero oggetti con tecnica sciabbi organizzato dal centro italiana femminile appuntamento in via Costa Guta 10 a Chiavari è aperto il museo archeologico per la preistoria e la protostoria del Tiguglio in via Costa Guta 4 a Chiavari dalle 9 alle 14 l'ingresso è gratuito per i gruppi e gradi da prenotazione continua il corso Nonni su internet organizzato dagli studenti dell'indirizzo o sistemi informativi aziendali dell'istituto Liceti di Rapallo le lezioni si terranno ogni giovedì dalle 14.30 alle 16 nel laboratorio di informatica della scuola nell'ambito dei corsi dell'Accademia Culturale di Rapallo nella sede di Villa Queirollo alle 16 si svolgerà la conferenza di Luciano Malusa dal titolo quali sono i nemici di Martin Lutero? Alle 17 all'auditorium di San Francesco di Chiavari inaugurazione della mostra Edoardo Mazzino la conservazione dei monumenti e la difesa del paesaggio in Liguria l'esposizione sarà visitabile nei locali di Palazzo Rocca tutti i giorni dalle 16 alle 19 come ogni giovedì al centro Benedetto Cuarone di Chiavari dalle 20 alle 21 l'Arcat Liguria propone un momento di incontro e condivisione rivolto principalmente ai familiari e ai pazienti con problemi legati all'alcol nell'ambito di Sori Legge al teatro comunale di Sori alle 21 spettacolo Uccedete Socrate come la democrazia ateniese si liberò di un personaggio scomodo Questa mattina nella sede di YLab a Chiavari è stato presentato il nuovo portale internet Piazza Levante si tratta di un settimanale di attualità cronaca economia e sport che sarà in linea da mezzanotte e ogni giovedì all'indirizzo www.piazzalelevante.it ogni settimana saranno inserite notizie che racconteranno in modo diverso la realtà del nostro territorio Tiguglio Golfo Paradiso e dentro terra Il nuovo portale ha l'obiettivo di trovare un punto d'osservazione di qualità selezionando i messaggi e approfondendo i temi Sarà presente anche una rubrica segnala un problema in cui il lettore potrà trovare un confronto con il diretto interlocutore Il sito conterrà storie di persone e imprese esperienze di vita un filo diretto con comuni e scuole corredato di foto e di video Vedete la pagina di Piazza Levante come si presenta in questo momento con il countdown che ci separa dalla mezzanotte di oggi in cui appunto il sito sarà in linea In conclusione ricordiamo che è stato pubblicato il bando di concorso per titoli esami per l'ammissione al novantesimo corso della scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza Si tratta di 584 posti per allievi marescialli del contingente ordinario e 47 per allievi marescialli del contingente di mare La domanda dovrà essere presentata entro il 5 aprile 2018 e compilata solo attraverso la procedura telematica che è disponibile sul sito concorsi.gdf.gov.it Bisogna ovviamente seguire le istruzioni del sistema automatizzato Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano compiuto il 17esimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26esimo anno di età Inoltre siano in possesso o stiano per conseguirlo un diploma di istruzione secondaria di secondo grado Questo permette infatti l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle università statali o legalmente riconosciute Siamo giunti al termine Ci ritroviamo con informazione locale domattina alle 7.30 con il Buongiorno di Telepace Grazie per averci seguito Buon proseguimento di serata Grazie per aver guardato il video